uscirà nelle sale italiane prossimo 8 novembre notti magiche uno dice a finalmente un bel film sul calcio in realtà no non è un documentario su italia 90 non è un remix della celebre canzone di gianna nannini e di e di pennato esatto scusa qui un suggeritore molto prestigioso ma in realtà è il nuovo attesissimo film di paolo virzi che è tornato a trovarci qui in redazione ciao paolo benvenuto ben tornato grazie mi piace tanto il tuo tono assertivo ti piace benvenuti a tutti in questo notti magiche magiche perché un po romano capito un po romano un po romano diciamo non sei di varese esatto allora paolo di che parliamo di bello allora parliamo ovviamente del tuo film allora il tuo film è usa il calcio soltanto come pretesto come cornice narrativa non tanto il calcio quanto l'evento sociale dal momento che un mondiale di calcio come poi quando è stato giocato quell'anno in casa era un evento che insomma rilevante dal punto di vista dell'interesse pubblico e il calcio come sai è uno sport molto difficile da mettere in scena al cinema io peraltro sono è stato il produttore di uno dei pochissimi film italiani che c'è sul calcio che è 4 4 2 ma per l'appunto raccontava il dietro le quinte proprio per una ragione tecnica molto semplice al contrario della box che è una coreografia una danza o dell'atletica leggera che ne so la corsa i 100 metri 200 dove il personaggio va da lì a lì il calcio è imprevedibile la palla è rotonda e quindi ricostruire ricreare un'azione di gioco è difficile e spesso suona inautentico per cui gli unici racconti sul calcio che sono a mio parere interessanti e possibili sono di quelli del dietro le quinte ce ne sono se ne sarebbero tante storie da raccontare assolutamente calciatori nella loro malinconia struggente del dopo gloria insomma in questo caso noi utilizziamo l'evento rilevante di questa semifinale d'italia argentina perché proprio tu mentre tutti stanno con gli occhi appiccicati ai televisori anche ce n'è anche uno sul tevere una baracchina di un gratta che caro e avviene una cosa che lì per lì non viene notata cioè una jaguar vola giù da ponte garibaldi e finisce a inabissarsi nelle acque del c'è una straordinaria nell'altro nel disinteresse generale perché tutti si stanno strappando i capelli perché serena ha sbagliato il rigore ecco e poco dopo i vigili urbani i carabinieri tireranno su quest'automobile questa jaguar ci troveranno a bordo il cadavere di un produttore dal passato glorioso leandro saponaro un nome inventato interpretato da Giancarlo Giannini che quindi debutta nel film da cadavere e un capitano dei carabinieri li trova nella tasca una polaroid che lo ritrae proprio insieme alla sua amante su Brett di indietro Giussi di indietro tutta e a tre giovani ragazzi che stanno brindando in un ristorante scopriremo che sono tre giovani aspiranti scemeggiatori che vengono convocati al comando dei carabinieri per passare una notta taccia ed essere torchiati in questa cornice quindi da indagine poliziesca noir gialla così è l'occasione in realtà per ripercorrere insieme a loro le ragioni che li avevano portati lì chi sono perché si erano come che si erano conosciuti e quindi di fare insieme a questi tre ragazzi ventenni un viaggio nelle viscele del mito del cinema italiano italiano che loro hanno attraversato in una stagione breve ma intensissima e piena di fervore di batticuore di illusione anche poi vedremo di disillusione l'ultima parte di questo momento d'oro del cinema italiano giusto tu racconti del mito del cinema del dopoguerra diciamo che finiva in realtà in quella stagione perché stava finendo un'epoca stava finendo anche in un'epoca politica geopolitica e corollava il muro di berlino c'era l'italia tenta partita c'era una certa roma c'era un certo modo di fare il cinema anche molto maschile ecco quello che raccontiamo è questo crepuscolo anche bellissimo di quella stagione perché poi si apre pagina e se ne comincia un'altra io non è che diciamo sia attratto dal sentimento della nostalgia anzi abbiamo provato ad avere uno sguardo verso questa mitologia che fosse da una parte di adesione devota perché io stesso a vent'anni sbarcato a Roma dalla provincia sbucato qui vicino a stazione termini non sapevo neanche dove andare a dormire e questo meraviglioso casino licenzioso peccaminoso zozzo corrotto che era la capitale mi sembrava finalmente come si dice un paesaggio romanzesco come come avevo desiderato e dissi quella frase che disse che dice del film luciano uno dei tre ragazzi io voglio sta qui tutta la vita e l'altro canto però quella mitologia anche rivisitata con uno spirito umoristico burlesco ironico di presa in giro di canzonatura quindi però una canzonatura fatta con amore senti ma perché però mi interessa un attimo soffermare bisogna andare avanti bella domanda perché provo a rispondere no 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 hai hai deciso di fare questa struttura gialla all'interno di una di una storia che poi in realtà racconta anche di cinema insomma non è che ho la risposta pronta perché la narrazione è una forma anche misteriosa di mi sembra adesso interrogandomi dal momento che mi poni sto quesito perché proprio una condizionata boh mi è capitato di farlo anche altre occasioni con altri film è qualcosa perché mi sembrava divertente probabilmente interessante e pertinente giocare proprio con il tools of the trade cioè gli strumenti del mestiere del cinema e per l'appunto uno di quali dal punto di vista narrativo è l'enigma il cadavere l'indagine dal momento che la nostra indagine in realtà riguarda altro anche riguarda la natura umana di questo di questo mondo riguarda però allo stesso tempo far condurre questa specie di viaggio a un capitano dei carabieri che interroga questi ragazzi mi sembrava una cosa pertinente con un film che è un film sul cinema sulla stagione delle speranze di gioventù e sulle passioni dei vent'anni sui percorsi di illusione di disillusione su quell'italia su quella roba su quel cinema e su come le cose cambiano e su come il tempo inesorabilmente passa e macina tutto ci sono anche tantissime emozioni dentro questo film no cavolo meno male perché se ne stanno veramente veramente tante l'ingrediente fondamentale per me quanto mi riguarda è l'emozione l'intrattenimento il divertimento tutte le gambe delle emozioni dalla malinconia alla sorpresa lo stupore la paura ecco in questo senso sì abbiamo cercato di mescolarle tutte